ti sovi e overnois possono essere considerati padri della zona moderna contemporanea per questo li possiamo identificare in una sorta di old wave degli anni sessanta che ha dato vita poi a quella che è la nuova ondata un po più fresca e scansonata che troviamo appunto in insura ecco tra i tre forse piero vernois è quello in assoluto cui viene attribuito questo ruolo perché perché effettivamente è stato un un allievo di di chauvet quindi ha avuto la possibilità di imparare da uno dei più grandi innovatori mondiali non semplicemente di di francia il suo percorso è stato un percorso molto interessante come in molti negli anni fine anni 50 si è trasferito in borgogna per cercare di apprendere le nuove tecniche al tempo l'industrializzazione del vino era diventata una materia quotidiana e lui appunto a ben è riuscito a lavorare alla stazione di enologia andando a capire ea studiare da vicino quelle che erano le tecniche portate dal i cosiddetti scienziati in corso però ha maturato una sorta di opposizione a quelle tecniche che snaturavano e andavano in qualche modo a mettere da parte il terroir tornato in patria nel 1961 decide di dare libero sfogo alla sua visione si voleva proprio opporre voleva far sentire la sua voce in maniera chiara attraverso i suoi vini decide di andare a lavorare per valorizzare al massimo la pianta della vite quindi sceglie di impiantare quelli che sono i vitigni classici focalizzandosi principalmente sul pulsar sul savagnan e sullo chardonnay va però a individuare nel sesto di impianto da oltre 7.000 piante la sua linea quindi un impianto con una densità altissima per cercare di far spingere alle piante le radici in profondità in modo tale che con radici ben salde siano in grado di resistere anche a quello che era già un cambiamento climatico che si stava già manifestando in questo modo pierre riesce a rivoluzionare quelli che erano i moderni per il tempo sistemi di lavoro cerca di ridurre al minimo il lavoro nella vigna stessa tant'è che inizialmente lavora su poltiglia bordolese e basta con la poltiglia bordolese di fatto è un composto in cui troviamo rame zolfo e poco altro un composto a basso impatto ambientale se non se ne abusa però piano piano ha iniziato a maturare anche la volontà e la voglia di ridurre al minimo questo tipo di intervento interventi solo manuali per cercare di impattare il meno possibile sul suolo e sulle piante quindi la sua visione è estremamente chiara e forte fin dall'inizio ma il passaggio in cantina che forse lo caratterizza più di qualsiasi altra attività lo caratterizza perché perché inizia a studiare in maniera viscerale quelle che sono le fermentazioni spontanee portate avanti dai lieviti indigeni nega quella che è l'innovazione tecnica portata dai lieviti selezionati che sì da un lato potevano garantire una fermentazione continua senza blocchi e quindi potevano garantire un vino piacevole ma dall'altro toglievano la componente del terroir quindi in questo modo si pone ovviamente una componente di rischio ma il territorio il suolo diventano i protagonisti cerca poi di andare a togliere quelli che erano le classici passaggi legati ai filtri non vuole più filtrare il vino in quell'epoca si volevano vini puliti immediati che potessero anche viaggiare quindi che avevano bisogno anche di una dose discreta di solforosa lui inizia a lavorare senza solfiti aggiunti un'innovazione che oggi ancora molti produttori non riescono a raggiungere perché il percorso per arrivare a poter lavorare così significa conoscere alla perfezione il proprio suolo il proprio territorio così da avere uve perfettamente sale lavoro in cantina per lui è un lavoro che nel tempo è diventato semplice immediato ma sempre molto accurato un'altra cosa che ha caratterizzato verno a in nel suo ambiente di lavoro è stato quello di andare a lavorare con macerazioni e affinamenti sulle fecce fini lunghissime questo è proprio una sua caratteristica quindi ha cercato di andare anche in in estrazione valorizzando al massimo anche la finezza e l'eleganza di un vitigno come il pulsaro verno a è diventato un faro per molti alcuni produttori sono riusciti andare realmente a studiare da lui altri l'hanno preso come faro come esempio anche al di fuori della giurà tra tutti però ce n'è uno che spicca che è manuel ugliò quest'ultimo è di fatto la persona che oggi porta avanti l'azienda perché pierre è più dedito alle fermentazioni e alle lievitazioni legate alla panificazione piuttosto che al vino pierre ha riconosciuto emanuel una capacità di lavoro anche superiore alla sua tant'è che i vini che i due in qualche modo ancora producono insieme perché pierre comunque non ha abbandonato completamente l'azienda sono dei vini che nel tempo si esprimono alla perfezione che sono sempre fedeli a se stessi basti pensare come hanno scelto di lavorare il pulsar quindi un vitigno che tende a essere banalizzato in tutte le sue espressioni hanno introdotto il lavoro solo in acciaio in cantina quindi ovviamente con una selezione smodata con selezione molto attenta in vigna dei grappoli migliori lavoro in solo acciaio per valorizzare proprio la delicatezza e la freschezza e l'immediatezza di questo vitigno ma con delle macerazioni semi carboniche tipiche di quella che è la classica banda di morgon quindi degli altri allievi di chauvet che sono marcella pierre per esempio andando dunque in maniera naturale a non addizionare di nessun gas ma mettendo all'interno di un contenitore le uve intere grappolo intero si tende quindi a schiacciare quelle sul fondo stiamo parlando di un contenitore in legno aperto generalmente che poi viene appunto chiuso il liquido fuoriuscito dal dai grappoli che sono posizionati sulla parte bassa di questo contenitore fermentativo innescheranno la fermentazione questa fermentazione produrrà co2 produrrà quindi gas che andrà a saturare non completamente l'ambiente fermentativo questo permetterà di preservare al massimo gli aromi e profumi senza negare comunque la grande freschezza senza negare mai quelle che sono le caratteristiche tipiche di questo vitigno quindi con questo tipo di lavoro è un affinamento che viene fatto solo ed esclusivamente in acciaio nonostante questa tecnica spesso volentieri venga utilizzata in contenitori di legno per facilitare anche un po di microossigenazione ecco sono riusciti a valorizzare al massimo questo vitigno riportando quelle che sono le note floreali con le note fruttate con una bellissima freschezza trovare una bottiglia del pulsar o plusar come viene definito localmente ecco di overnois e di oignon è quasi impossibile la produzione è di circa 5 10 mila bottiglie l'anno quindi una produzione veramente piccola considerate che comunque il domen di fatto è una piccola azienda è un'azienda che si espande su soli sei ettari nonostante ovviamente un sesto di impianto estremamente elevato quindi ogni bottiglia che overnois produce di fatto diventa quasi introvabile e stessa cosa vale per il pulsar i prezzi comunque tendono ad essere estremamente elevati proprio in virtù di questa difficoltà di reperire il vino per capire come siamo arrivati a poter degustare uno chardonnay incredibile come le gravie appunto di tisso dobbiamo cercare di comprendere anche quello che è stato il percorso che in qualche modo si concretizza all'interno di questo vino intanto questo vino viene prodotto con una fermentazione spontanea in legno come avviene spesso e volentieri in borgogna quindi dai vicini di casa dei produttori della giurà e viene mutuato quindi quel tipo di tecnica l'affinamento viene fatto per oltre 15 mesi sempre all'interno del contenitore in legno per un vino che però ha l'eleganza nell'onestà e nella qualità stessa del dei profumi che vanno da un frutto molto centrato fino anche a un aspetto floreale molto evidente è una complessità ma anche una piccola nota quasi burrosa che ritroviamo al palato ben bilanciata questa grandissima freschezza ecco per capire tutto questo per capire come siamo arrivati a lavorare su sette parcelle micro parcelle per fare un vino così dobbiamo fare un salto indietro nel tempo era il 1962 quando andre tisso insieme alla moglie mirei decidono di dare vita a questo domenco consideriamo che nel 1961 overnois aveva iniziato già ad innovare ed è per questo che tisso viene sempre messo accanto a pierre per quello che è stata l'innovazione di questo territorio anche se l'innovazione vera di questa azienda rimane un po in pancia fatto sta che i due coniugi decidono comunque di avere un domenio abbastanza ampio rispetto alle scelte fatte da overnois tant'è che oggi conta oltre 40 40 ettari decidono di poter esprimere al massimo tutta la jurat vanno proprio a lavorare su quelli che potremmo quasi definire dei dei crew anche se non è il sistema di classificazione corretto quando stiamo parlando di di jurat e lo fanno con un approccio estremamente schietto chiaro diretto lo fanno cercando di contrapporsi a quelle che erano le trend che erano le scelte dell'industria del vino fatto negli anni sessanta quindi si allineano in maniera abbastanza coerente con quello che è il pensiero di overnois con quello che è il pensiero di della banda di morgonne cercano di cavalcare in maniera onesta quella che è l'onda del momento però dobbiamo aspettare in realtà l'epoca più recente per vedere tisso allinearsi realmente al mondo del vino naturale della biodinamica e grazie all'ingresso in azienda del figlio stefan con la moglie benedict che vengono appunto fatte dei percorsi che porteranno poi l'azienda essere certificata biodinamica demeter stefan ha avuto la possibilità di andare a studiare all'estero di vivere anche le vendemmie di lavorare quindi in territori come gli stati uniti come l'australia di potersi quindi confrontare con dei modi di lavorare completamente differenti rispetto a quelli francesi rispetto a quelli tradizionalmente utilizzati in jura torna convinto sempre di più di poter portare il lavoro tracciato dal padre ad un livello ancora più rispettoso dell'ambiente partendo dal presupposto che andrea tisso comunque era già considerato come uno dei produttori green nei produttori quindi più in armonia con quello che è il mondo jura lo fa andato ad introdurre tutte le pratiche biodinamiche in vigna lo fa andando a portare alla sua massima espressione la fermentazione spontanea e non filtrare spingendosi dunque fino al non utilizzo di solforosa riprendendo un po quelle che erano le idee iniziali del padre sviluppate a fianco anche dello stesso overno quindi possiamo parlare di un'azienda che ha un retaggio storico e fa quindi parte della old wave ma in qualche modo possiamo inserirlo anche nella new wave perché il figlio stefan è vero che già a fine degli anni 90 era entrato in azienda ma è dal 2004 che è riuscito a portare la certificazione biodinamica appunto dentro il mondo di tisso ancora le corvets e le novelle sono alcuni dei liudì quindi dei cru più importanti della jura non è semplice per un produttore di una nuova generazione cercare di poter lavorare su suoli vigneti così importanti sono in pochi quelli che possono vantarsi di esserci riusciti è il caso però di alice buve che con charles gun è riuscita a nel 2005 a creare il domaine de l'octave ovvero una delle aziende vitivinicole di nuova generazione più importanti in assoluto della jura il percorso che ha portato alice a lavorare su alcuni dei vigneti più importanti di questa regione però parte da lontano parte da bordeaux infatti lei si è laureata all'università di enologia di bordeaux andando ad affinare quelle che sono le tecniche enologiche classiche e capendo però che voleva prendere una direzione legata al naturale e fa anche un breve passaggio in borgogna a cercare di comprendere capire come si possa far esprimere in maniera estremamente fine ed elegante un vitigno come il pinot noir quello che però ha caratterizzato molto la visione naturale ma anche di rottura di alice è in realtà la sua esperienza straniera ha avuto la possibilità grazie anche all'università di bordeaux di andare a confrontarsi con quelli che sono i vigneti della nuova zelanda del sudafrica dell'australia e del cile quindi andando nel nuovo mondo a vedere quelli che erano le innovazioni cambiamenti territorio in cui la scena del vino naturale stava già emergendo in maniera netta e chiara tornando in giurà poi ha trovato ovviamente un terreno estremamente fertile perché i dettami di overno avevano già attecchito all'inizio del 2000 e quindi erano in molti giovani che si stavano dirigendo verso una viticoltura naturale una viticoltura biodinamica con poi un lavoro non interventista in cantina tant'è che il lavoro del domen dello octaven in vigna è biodinamico certificato demeter l'idea è proprio quello di cercare di assecondare al massimo la caratteristica dei vigneti importanti cui su cui Alice riesce appunto a lavorare la sua volontà è quella di portare in cantina un frutto ovviamente sano ma non prende mai nessun tipo di decisione durante il lavoro in vigna ogni decisione viene rimandata dopo la vendemmia quindi nel momento in cui l'uva arriva in cantina e si deve iniziare la fase ovviamente di produzione è lì che Alice prende ogni tipo di decisione intanto sulle cuve da andare a produrre sui vini da produrre ma anche sulle tecniche da utilizzare anche se lo stile di del domen dello octaven che è chiaro e ormai conosciuto in tutto il mondo è uno stile molto pulito molto lineare si tende a non utilizzare legni a lavorare quasi esclusivamente in acciaio proprio per cercare di non portare nessuna sovrastruttura sul vino andando a valorizzare al massimo quello che è la materia che la vigna riesce appunto a donarci Alice però ama confrontarsi e dal 2005 ad oggi è riuscita comunque ad affermarsi non soltanto a livello regionale ma a livello mondiale e per cercare di continuare ad innovare dato che comunque anche molto rispettosa di quello che è la tradizione di quello che è il territorio il retaggio culturale si è cimentata su altri tipi di lavoro quindi ha cercato di innovare per esempio il pulsar andandolo a vinificare in bianco cercando di esaltare al massimo la sua eleganza la sua finezza rappresentata da questa freschezza incredibile è andata a lavorare su dei blend che vedono il trousseau per una volta non col pulsar ma con il pinot noir poi ha cercato di lavorare in maniera netta e pulita con lo chardonnay ecco in questa visione potremmo dire che un produttore di vino si potrebbe ritrovare già appagato invece per Alice ovviamente non bastava quello che ha voluto fare una nuova sfida che ha voluto accettare è stata quella di andare in giro per tutta la francia tra gli amici vignaioli a ricercare dei vigneti che avessero delle storie da raccontare e che fossero ovviamente certificati biologici con propensione al lavoro in biodinamica ma che fossero in grado di andare ad esprimere un terroir unico ed incredibile così è nata anche un'altra linea di vini in relativa appunto a tutti gli amici che ha lì sa in giro per per la francia sono nate le spumatizzazioni quindi quando parliamo di bollicine di spumante in jura pensiamo subito al crema in questo caso lei ha voluto portare in in regione dei vitigni un po più particolari possiamo pensare a quello che forse oggi è una delle etichette che ha reso Alice famosa in tutto il mondo anche per la sua spensieratezza lei la riconosciamo da queste etichette con i sette nani appunto disegnati ce n'è una su tutte che che spicca che è quella legata anche a un nome molto simpatico ovvero betty bull dove va a prendere il fisico il corpo di betty buppe lo unisce alla faccia al volto di uno dei sette nani l'innovazione qui sta nell'essere andata a ricercare il muscat roussillon nell'aver portato il viognè dal vicino bojolet quindi un vitigno che comunque non è classicamente del del bojolet ed aver lavorato anche con altri vitigni di altri territori cercando quindi di fare una sintesi che non fosse di un singolo terroir ma di vari terroir la spumantizzazione è un pet nato ovviamente quindi di questo di questo vino risulta estremamente simpatica divertente con una beva che è citrina ma mai banale non è ovviamente monodimensionale quindi non basa tutto soltanto su questa freschezza riesce ad essere anche avvolgente con una bolla estremamente fine rispetto a quello che generalmente può essere il risultato ottenuto da questo metodo di vinificazione ne è venuta fuori anche una versione in rosé con vitigni completamente differenti provenienti da altre zone ecco questo è per far capire che il alice molto seria nel lavorare sui crew sui liodi ma è anche estremamente dinamica e spensierata quando deve portare un vino che rappresenta la sua filosofia alla perfezione quindi riesce a farlo in maniera dinamica giovane ma riesce a farlo anche in maniera estremamente seria il vino è fatto di territori ma anche di uomini e ci sono storie che partono da lontanissimo delle storie che addirittura partono con 50 60 anni di anticipo senza sapere esattamente dove arriveremo è caso del grande produttore versè siamo nel rodano quindi siamo nel nella zona di cornà ecco qui un giovane thierry aleman guardate quanti passaggi di generazioni ci sono perché thierry aleman è già la generazione precedente a quella di cui andremo a parlare ecco un giovane thierry aleman si ritrova ad essere l'allievo notturno del grande versè riesce quindi a lavorare il giorno in una in un domenio in una maison un po più grande strutturata che intanto gli dà da vivere ma non gli sta insegnando quello che lui vorrebbe quindi la notte prolunga il lavoro andando in cantina a cornà a capire effettivamente il segreto delle vinificazioni naturali questo lo porterà poi piano piano a riuscire ad acquistare alcuni ettari perché per sé non avrà del del dei discepoli ma neanche dei discendenti a cui lasciare le sue vigne non gliele regalerà però gli darà la possibilità di comprarle ecco thierry aleman userà tutti i suoi soldi per comprare alcuni ettari di di vigna dal suo maestro e si ritroverà nella posizione che non avrà la possibilità di lavorarli quegli ettari perché comunque l'investimento da fare era al di sopra delle sue possibilità economiche quindi inizia a fare l'elettricista facendo l'elettricista riduce la sua vita al minimo dei costi proprio per mettere soldi da parte da poter un giorno investire finalmente nella lavorazione di quei vigneti quando riesce a ripresentarsi i vigneti sono quasi abbandonati e ci vorrà tempo per poterli riportare alla grande produttività di un tempo ma è subito concentrato e focalizzato sulla grande qualità che possono esprimere è un thierry aleman è un non interventista quindi cerca di lavorare con legni completamente esausti non filtra lavora quello che è un vitigno estremamente generoso cercando di esprimerlo in un territorio come il rodano in maniera molto elegante quindi con vini che non raccontino soltanto il frutto ma che raccontino anche l'eleganza di un suolo unico riesce a farlo con le fermentazioni spontanee senza filtrare ecco thierry aleman avrà poi un discepolo molto interessante tra tutti che è kenjiro kagami un ingegnere giapponese che nel 2001 2002 decide di trasferirsi in francia per studiare enologia cercando dunque di comprendere quelli che erano i segreti del grande vino francese un vino così importante da essere noto e famoso anche nel lontano giappone quindi la sua grande passione lo porta a spostare addirittura la famiglia quindi la moglie mayumi lo segue e vanno a vivere in francia alla possibilità accanto a thierry aleman di imparare quelle che sono le tecniche di vinificazione naturale una volta che si sente tranquillo convinto dei propri mezzi essendo appunto ormai un enologo con una discreta esperienza decide di trasferirsi nella jura ecco va detto che kagami in giapponese significa specchio e la sua visione il suo concetto era quello di rispecchiare alla perfezione nel vino non soltanto la persona ma anche il territorio come abbiamo ribadito più volte la jura è forse la regione al mondo che più di tutte da questa possibilità siamo soliti dire che sia la borgogna ad andare in questa direzione ma la jura forse lo fa in modo ancora più netto e più chiaro quindi kenjiro decide di andare nella zona di gros una zona un po diciamo secondaria per quanto riguarda la jura una zona in cui nessuno veramente puntava a fare vini di eccellenza ma lui lo fa convinto che quello che ha trovato potrà dare grandissimi frutti le prime annate stiamo parlando del 2011 quindi dopo dieci anni che viveva già in francia aveva studiato francese si era ormai acclimatato le prime annate sono disastrose non riesce a raggiungere negli standard qualitativi né a curare il domen che appunto si chiama domen de miroir quindi il domen degli specchi giocando sul nome kagami sulla sua idea divino ecco non riesce a interpretare fino in fondo quel terroir attraverso i vitigni che ha scelto che sono quelli classici lo chardonnay savagnan il pulsar ma non riesce a cogliere l'anima e l'essenza a difficoltà anche organizzative perché comunque la jura è un mondo a sé è un mondo differente rispetto a tutto il resto della francia riuscirà comunque a portare a casa le prime vendemmie grazie al supporto e l'aiuto dei vicini grazie al supporto e l'aiuto di nuovi amici questo gli permetterà di credere fino in fondo nel suo progetto dopo qualche annata i risultati in realtà saranno stupefacenti perché l'eleganza che riesce a portare kagami all'interno della bottiglia non ha uguali riesce a farlo andando a tradurre un territorio che comunque sia elegante ma anche molto marcante in devini quasi sussurrati riprendendo proprio quello che è il modo di vivere di scorrere di portare avanti il mondo del vino e la visione propria dei giapponesi quindi non urla mai sussurra e anche nel suo modo di affermarsi ha cercato di convincere tutti delle sue capacità andando a far assaggiare i vini senza marketing ovviamente lavora in maniera completamente naturale senza filtrare a volte fa intervenire degli stili leggermente ossidativi altre volte lavora in maniera completamente pulita fatto sta che oggi la sua identità è ben chiara il giappone rappresenta il suo sbucco commerciale principale le bottiglie sono pochissime perché comunque ha veramente pochi ettari a disposizione per lavorare ma decide di non alzare i prezzi anche se il rapporto tra domanda e offerta e lo permetterebbe immediatamente decide poi di dare dei nomi estremamente evocativi ai vini sonorite di 20 quindi il suono del vento misuhiro che in giapponese vuol dire il colore dell'acqua quindi è proprio una visione un modo di essere che vuole portare all'interno del calice oggi uno dei produttori a giurà più osannati ma non si è assolutamente montato la testa e continua a lavorare come si suol dire a testa bassa andando a curare direttamente i propri vitigni e propri vigneti con la moglie un lavoro che lo porterà probabilmente lontano se avete la possibilità di assaggiare uno dei suoi vini li riconoscete immediatamente perché il domen degli specchi lo possiamo identificare attraverso le nuvole in etichetta perché questo è probabilmente il sogno che che in giro ha avuto nel momento in cui abbandonato il giappone nel 2001 attraverso le nuvole in etichetta si avvicina la testa di un'esprete con il